Una fiaccolata per ricordare Patrick Zola e Itan Romano, i due ragazzi di 15 e 14 anni deceduti lunedì sera a causa del crollo di un rudere. Si è tenuta stasera nella chiesa di San Domenico Savio, che sorge a 100 metri dal luogo della tragedia. All'iniziativa, promossa dal parroco Don Stefano Paba, hanno preso parte le autorità cittadine, gli amici dei due ragazzi, studenti e nuresi provenienti da tutti i rioni. Un'altra dimostrazione di grande partecipazione della comunità ad una tragedia che ha travolto la vita delle famiglie dei due ragazzi e lasciato attonita a un'intera città. La fiaccolata si è conclusa all'interno della chiesa. Qui si è tenuto un momento in riflessione su quanto accaduto a Patrick e Itan. Intanto proseguono le indagini dalla Procura della Repubblica di Nuoro, col supporto della squadra mobile della Questura e dei Vigi del Fuoco, per accertare la dinamica del crollo del rudere in cui hanno perso la vita i due ragazzi. 14 persone, i coeredi del terreno in cui sorge l'edificio, sono state iscritte nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato, un atto dovuto per consentire alcune attività tecniche. L'autopsia, disposta dal magistrato Riccardo Belfiori ed eseguita stasera dal medico legale Matteo Nioi, ha stabilito che due ragazzi sono morti per trauma cranico da schiacciamento. Domani mattina alle 10, nella chiesa di San Domenico Savio, sono i programmi funerali. Ad ufficiali il Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nure di Lanusei. Il sindaco Andrassodio ha proclamato per domani il luto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore delle famiglie, interpretando così i sentimenti dell'intera cittadinanza. L'ordinanza dispone inoltre della temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali dalle 10 alle 10.15, con l'abbassamento delle serrande. Il primo cittadino ha invitato i nuorese a partecipare ai funerali e dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado ad osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio.